Sogno o son desto? Ci vedo doppio? Forse ho sbattuto la testa montando l'albero di Natale? Ma ci sono due bebiello qui, altrimenti. Uno e uno due. Sì, sono decisamente due. Che cosa è successo? Eh? Avete fatto una clonazione? La mamma questa volta ha sfornato una doppietta di gemelli? Mmm, bisognerà indagare e andare a fondo alla questione. Ancora una volta, ciao ragazzi e benvenuti su The Baby Yellow. Per oggi possiamo scoprire tutti i segreti del gioco e non solo. Possiamo anche moltiplicare il baby, possiamo farlo diventare gigante, possiamo fare un sacco di cose, possiamo volare in giro, possiamo scoprire tutte le cose nascoste che ci sono. E bambino piccolo, però la prima cosa che voglio fare è un sogno che voglio mettere in pratica. La primissima cosa, secondo me, è quella di moltiplicare il bambino. Ma non solo una volta. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Voglio una casa piena, piena di baby yellow. E poi troveremo il modo di toglierli di mezzo. Uno lo mettiamo qui. Beh, sono talmente tanti, dobbiamo trovare un posto per tutti in questa casa, eh. Sì, tranqu... Oddio, stanno piangendo all'unisono. Che fastidio! Tranquilli, tranquilli, va tutto bene. Lion di Natale adesso vi racconta una favola. Sì, una bella fiaba con un lieto fine. Sì, che così nessuno di voi avrà più motivo di piangere. Eh, vi metto tutti qui per terra se non vi offendete. Così potete ascoltare la favola. Eh, sì, che sarà una meraviglia ascoltare la favola. Penso se dovessimo cambiare tutti questi bambini. Dare il biberone a tutti questi bambini. Quanti ne ho? Oddio, aiuto. Sono troppi! Ho esagerato! Ah! Perfetto! È anche quello originario. Adesso quello originale praticamente è impossibile da sapere qual è. Perché ne abbiamo un bel gruppo, tanti, tanti! Tranquillizzatevi, piccolini. Tranquillizzatevi. Ce ne sono ancora un paio che piangono. E di ognuno però si comporta diversamente, eh. Perché quelli che piangono sono pochi. Tranquilli, tranquilli! Non piangete più! No, no, non c'è bisogno. Mettetevi seduti. Avete bisogno di cibo? Mi state chiedendo qualcosa da mangiare? Guardate come stanno bravi i vostri fratellini là dietro. Loro sono gentili. Non come voi, terribili e fastidiosi. Zitti! Monelli! Monelli! Basta, date troppo... No, 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 basta. Date troppo fastidio. Siete troppo tanti. Oh! Ecco qui. Ora abbiamo di nuovo solo l'originale. Ma se noi... Metti caso, può capitare, no, a volte che ti perdi il bambino. Perché è troppo piccolo lì. Poi la casa è grande. Magari non sai dov'è. E lui piange, piange. Tu dici, dov'è il mio bambino? Allora forse questo bambino dovrebbe essere un po' più grande, no? Un pochino più grande. Un pochino più grande. Un bel pupone grande. Così grande? Forse troppo grande. Oddio, quanto sei grande. Eh, sei anche un po' ingrippato però, eh? Ma che bel bambino! Ma che bel bambino! Beh, non è tanto bellino, però è un po'... È un po' scomposto. Stai crescendo a vista d'occhio. Guarda, fai nel seggiolone. Ah, così sì, che ci stai una meraviglia. Come sei bello! Grande come il bel Zebu che ti giace dentro. Ovviamente la parte che stiamo tutti aspettando è un po' di navigazione nel... Dietro i muri del gioco, no? Perché così... Facciamo così, tecnicamente, vedete? Possiamo vedere gli ambienti a noi nascosti di The Baby Yellow. E questo gioco vi piace moltissimo. E anche a me. Poi ancora la storia è un po' lì sospesa. Ci saranno degli aggiornamenti. Continuerà. Quindi magari noi riusciamo a carpire qualche indizio. Questo è il frigorifero, la zona, vi ricordate? Dove si entrano per trovare il cibo per il bambino. Qui ovviamente non si vede altro, però. Perché no, ci sono solo quelle parti lì. Però guardate quanto è grande qui. Ci sono tutte le aree della casa. E non solo. Ci sono anche tutte le aree del complesso residenziale, della zona, dell'appartamento. Vedete? Vedete qui in ascensore c'è il simbolo. Quello del male, no? E in soffitta, tecnicamente, ci dovrebbero essere tutte le cose del gatto, no? Il gatto che ci aiuta e che ogni volta ci guida. Mamma mia. Uh, guardate là! Che cavolo è questo? C'è tipo un sole, un occhio di Sauron. Madonna. Questo è qualcosa, eh. Secondo me questo è qualcosa di strano. Guardate, si affaccia sopra la stanza del bambino. Però tecnicamente tu questa non lo puoi vedere. C'è sopra la stanza del... Questo è un segreto vero e proprio, eh. Sopra la stanza del bambino c'è una sorta di fonte di luce malevagia. Perché sembra proprio un sole maligno, sorta di eclissi malvagia, che però noi non possiamo vedere perché c'è il soffitto. Ma al di là del soffitto, dritto sopra la stanza del bambino, c'è questo sole malvagio. E se noi ci avviciniamo al sole malvagio, vediamo se succede qualcosa. Ci sta bruciando, si sta accecando con la sua luce fortissima. Tipo non è un sole, vedete? È una sorta di portale. Questo è un portale. Perché vedete, da sopra il portale procede, però va nel vuoto, nel nero. Non si sa che cosa ci sia qui. Probabilmente è una specie di portale infernale che il bambino ha usato per scendere. Per scendere fino al mondo nostro. Madonna però, inquietante, eh. Mi piace. È un buon segno, stiamo trovando delle cose. Bellissimo. Adesso però, ritorniamo dal nostro bambino. Poi ripartiamo anche in volo, perché ci sono altre cose che dobbiamo vedere. Però prima voglio vedere di dare una mano al mio grande, al mio bel gigante. Perché si sente solo. Anzi, gli dobbiamo cantare una canzuncella, secondo me. Perché lui è sempre qui, sempre solo. Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, è grosso, sembra un randazzo. È un bimbo bruttino, sì. Eh? Oh, ti sei incastrato nel seggiolone. Rimani lì che va bene. Allora, papà ha deciso di portarti un compagno di classe. Sì, un compagno di classe. Più di uno. Più di uno. Guarda qui. Il maestro Baldi. È unexpected, vero? Non ve l'aspettavate. E invece sì. Eh? Questo ti insegnerà a contare? A fare la matematica? Eh? Guarda come muove le mani. Sei contento? Non sei contento. Beh, giustamente la scuola magari non è la cosa più divertente, no? Che ci possa essere. Quindi posso capire che il bambino magari stia dicendo No, papà, io il maestro Baldi lo uccido nel sonno. Va bene, allora niente maestro Baldi. Proviamo un compagno di classe più in gamba. Potete già, immagino, riconoscere chi sia. Peccato che è un pochino rimasto di traverso nel soffitto però. Perché sei lì? Brutto cretino. Vieni qua. Sc- Scendi. Fatti vedere in faccia. Guarda dove ti sei ingrippato. Aghi-waghi, dovevi giocare col mio bambino. E ti sei ingrippato nel soffitto. Non chiedetemi come sia possibile che ci siano anche questi personaggi dentro Debe Migliello. Però è così. E non sono gli unici, ce ne sono ancora. Abbiamo, per esempio... Urca. Oddio mio. Quasi troppo grande, eh? Mommy, sei finita il piano di sopra. Giustamente nella camera con il lettone grande. La camera di Mommy e Daddy. Eccolo qui il suo biberone. Lo stavo cercando. Però c'è un problema. Questo biberone sarà sì buono. Sarà buonissimo. Il suo biberone preferito. Però è un pochino piccolo. Per la dimensione del bambino che abbiamo noi, no? Cioè è troppo piccolo. Dobbiamo ingrandire un po' questo bel biberone grande. Per un bambino grande ci vuole un biberone grande. Eccolo qui. Sono sicuro che sarà felicissimo di questo biberone. Pronto a mangiare? No! Dove sono tutti i compagnetti che ti ho portato? Il maestro Baldi, la maestra. Eh, Mommy, Sissi, Tissi. Dove sono tutti? Te li sei mangiati, vero? Eh, lo so. Avevi fame? È anche colpa mia che non gli ho portato il biberone al momento giusto. E allora, bambino grande? Biberone grande? Forse, forse... Ho capito qual è il suo problema. Eh, il biberone lo ha reso contento. Però secondo me gli manca il fratellino. Il fratellino gliel'abbiamo tolto. Un fratellino era suo. E ci voleva. E noi li abbiamo tolti tutti. Non va bene questa cosa qui. Hai ragione, bambino. E allora adesso io un fratellone te lo metto. Guarda com'è grande. Come te. Eh? Bellino. Bellissimo. Oh, che bellezza. Che dolcezza. Che amore. Eh, siete contenti adesso? Lui no, però. Questo qui è un po'... È meno contento. Vabbè. Adesso però, siccome hai mangiato, vuol dire che ti sei scagacciato. Quindi ti devo... E infatti, guarda lì che schifo. È tutto scagacciato. Vieni qui che ti sei incastrato nel seggiolone. Sei troppo grande, bel bambino mio. Vieni con me. Ti porto nel cambiatoio. Per cambiare quel pannolone gigante. E anche qui, giustamente, ci vorrà. Madonna, non ci passi, eh. Amico, sei... Sei più grande di me. Aspetta, eh, che... Aspetta. Ti prendo così. Tranquillo che adesso ti spingo e ce la facciamo. Nel fasciatoio. Aspetta. T'ho messo. Più o meno. Adesso bisogna prendere. Guarda come mi sta fissando. È un bambino. È un gigante questo. Non è un bambino. Ti prendo il pannolino. Ovviamente, ve lo devo dire. Bambino grande, serve un pannolino grande. Ma bello grande. Ma, ma, ma... No, aspetta. Però prima lo prendiamo. Un bel pannolino in mano, così. Adesso lo ingrandiamo. Un po' più grande. Bisogna che sia bello grande. Altrimenti non gli sta. Poi dopo, la tutta la caca viene fuori. E non va bene. Fa schifo, eh. Eh, ci mancherebbe. Guarda che bel pannolinone. Eh. Ma, ti stavo cambiando. Allora, devi stare fermo. Perché io questo pannolino gigante, ho fatto, ho pagato... Non è abbastanza grande? Hai le, 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 le irritazioni? Hai le irritazioni. Potrebbe avere le irritazioni. Sapete quelle del pannolino, no? Allora lo facciamo più grande, così è più comodo. Ed è più interessante, anche no. Ecco qui. Un bel pannolinissimo. Eh? Per un bel bambininissimo. Tu stai nel seggiolone, però. Perché, eh, già qui è difficile uno. Figuriamoci due in giro, eh. Per cortesia, ognuno ha il suo posto in casa. Mm? Grazie. Oh, adesso vieni con me. Che tu sei quello cagato, eh. Ti si riconosce dalla puzza. Ti dico solo questo. Gua, è un casino. A farti passare dalle porte. Vieni. Dai. Dai che ti devo mettere qui. Oh. Stai fermo adesso, eh. Dobbiamo cambiare il pannolinone. Eccolo qui. Un bel pannolinone. Enorme. Che neanche questo ci passa dalla porta, eh. Allè. Fatto. Comodo. Sono contento che ti sia comodo. Ne sono contento. Adesso bisogna andare a dormire. Tutti e due bisogna andare a dormire. Tutti e due. E siccome il papà è un po'... Non piangere. Siccome il papà è un po' povero, allora ho un solo letto per entrambi. Ok? E sarà un bel problema portarvi di sopra. Portiamo prima... Un attimo. Portiamo prima lui, il fratellino, che non ha neanche mangiato. Oggi l'hai mangiato solo tu. Vieni, bel bambino grande. Vieni. Bello. Incastrato un pochino. Vieni. Vieni. Perfetto. Allora, vai nel lettino. Che schifo. Sento rumore di cacca. Vai nel lettino. Vabbè, più o meno nel lettino. D'accordo. Adesso prendiamo l'altro bambino. Quello più bravo. Eh? Il bambino più bravo. Vieni qui che andiamo a dormire. Sì, andiamo a dormire. Anche perché adesso arriva la parte di gioco dove secondo me possiamo vedere qualche segreto in più. Ecco qui. Nel lettino anche tu. Chiudiamo la porta così c'è più spazio. Ecco qui. Va bene? Non ci state, eh? Un pochino siete un po' troppo grandi. Stanno ballando la macarena. Allora papà ci pensa a lui. Papà ci pensa a lui. Nel lettino non c'è posto per tutti e due. Quindi, anzi, c'è posto per tutti e due. Ma dovete essere un po' più piccolini. Perché se no non ci state. Così va bene. Oh. Siete contenti adesso? Cos'è successo? Cos'è successo? Perché sono tutti così? Cos'è? 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 Stanno facendo? Sì. Vabbè. Siete diventati una stella marina. D'accordo. È comprensibile. Tu rimani lì. Eh. Tu sei anche peggio di quell'altro. Eh. Lo so che sei triste. Senti. Non è colpa mia che sei ridotto in questa maniera, eh. Cioè. Io non c'entro proprio nulla. E evidentemente questa è la crescita. Sai quando ti allunghi in alcuni pezzi del corpo, però il resto rimane di dimensione sbagliata. Eh. Piano piano, quando la natura farà il suo corso, diventerai della dimensione giusta. Un amore. Adesso procediamo. Allora, volete che io vi legga il libro delle fiabbe? Una richiesta del tutto ragionevole, possiamo anche dire. Però papà adesso vuole vedere un po' di segreti in giro per la vostra casa. Quindi, se avete pazienza, poi ve la leggo la fiabba. Che era anche molto bella. Ce la ricordiamo tutti. Ho visto anche che ci sono un paio di altre cose in questo mod menu. La prima che mi ha intrigato parecchio è la modalità lava. Poi c'è la modalità acido. E la modalità solleva il livello dell'acido. Magari è il giorno che possiamo ammazzare il bambino, no? Chi può dirlo? Potrebbe essere questo il mio regalo di Natale? Mettiamo la lava. Ma è bellissimo. Ma sale? Non mi dica è sale. Oh! Ma sale davvero! Ma è tutta lava la casa! Oh! Madonna! Il bambino orribile! Ma sta bruciando? Non me lo dire! Vieni anche tu! Scusa, eh! Abbi pazienza! Ma bruciano! Ma è una goduria! Però non stanno morendo proprio tanto, eh! Cioè, vedo che sono a disagio. Il che è già abbastanza! Però non stanno morendo! Dai su! Lo so che sei figlio del demonio, però almeno... No? Niente, eh! Va bene, togliamo la lava! Magari l'acido potrebbe fare il trick, però, eh! Scusa, papà non l'ho affatto apposta! Che già, poverino, sei tutto storto! E già questa è una sfiga abbastanza! Vuoi che ti sistema, papà? Non lo posso fare! Cioè, io l'avrei fatto, però... Mi fanno impressione in questa maniera, eh! Non si possono tenere! Allora, facciamo così! Risolviamola in questa maniera qui! Acido! Eh? L'acido è buono, eh! Dai! L'acido va bene! No? Moriranno così! Dai, non possono... Sopravvivere anche all'acido! Pare uranio! Ti prego! Avvolgili! No? Sembra una cosa quasi divina, questa luce azzurra, verde! Ti prego, brucia questi... Toglimeli, che sono anche più brutti così! No, neanche l'acido! Non muoiono questi così! Non moriranno mai! Sono terribili! Proviamo ad andare avanti, allora! Facciamoci il nostro giro di esplorazione! E vediamo davvero che cosa possiamo trovare! Dunque, in quest'area, penso che abbiamo già guardato bene! Abbiamo visto che c'era il frigo, abbiamo visto tutte le stanze della casa! Però, tecnicamente, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere la stanza molto interessante del dottore! Il nostro amico! O forse nemico! Mi sa che ci sono riuscito, eh! Siamo nell'ascensore adesso! Quindi, da qui possiamo vedere gli altri segreti! Se si apre! Sta cadendo l'ascensore! Non me la ricordavo questa cosa! Va bene, va bene! Non preoccupiamoci! Non dovrebbe succedere niente! Io voglio arrivare nella stanza del dottore! Quella, secondo me, è la fonte dei segreti! Allora, proviamo a partire da qui! E vedere che cosa troviamo nell'area intorno! Dunque, aprendo questa porta! Non c'è niente! Lì sotto vedo delle stanze! Questo è l'ascensore da cui noi siamo arrivati! Che sembra non avere un sopra o un sotto, però! Però qui vedo un sacco di stanze! Quindi, sicuramente, una di queste è la stanza del dottore! Che vuole... La stanza di Pikman! Eccola! È proprio questa qui! E qui ricordo che da qualche parte ci dovrebbe essere anche il nostro frugoletto! Il Baby Boo! E vedete qui? Per esempio c'è un cunicolo, eh! Ci sono anche tanti oggetti sugli scaffali! Però questi mi pare che sono quelli che vediamo normalmente! Quindi non c'è niente di più e niente di meno! In alto non vedo altri portali demoniaci, purtroppo! Però possiamo provare a seguire... Questo? Che cos'è questo? Ah! Questo è il disco perduto del bambino! Vi ricordate che poi lui ci chiede di fare la nina nanna? Infatti qui ci sono i pezzi dello spartito! Ma è molto strana questa cosa! Perché noi qui non abbiamo ancora fatto niente! Vi ricordate che dovevamo assemblare e mettere tutti i dischi? Ci venivano dati i pezzetti dello spartito! Invece qui, nascosto qua dietro, c'è già il disco! E credo che se noi mettiamo questo... Dovrebbe succedere qualcosa, eh! Mi pare! Perché tecnicamente questo è l'ultimo disco, è quello finale! Però non succede niente! Forse è perché noi non dovremmo poterlo avere in questo momento, visto che tecnicamente siamo in un posto dove non potremmo stare! Abbiamo buggato, abbiamo hackerato il gioco! Vediamo se c'è qualcos'altro nascosto dietro le pareti, però! Perché ho visto delle altre stanze! Questa è la parte dove dobbiamo buttare il bambino nella colonna dei vestiti sporchi! Sì, mi pare! Sì, sì, eccola! Questa è la colonna dei vestiti sporchi! Purtroppo anche qui non mi pare che ci sia un indicatore, un continuo, una stanza nascosta dove va a finire il bambino dopo che l'abbiamo buttato! E' un peccato! Mi aspettavo che ci fossero più cose nascoste, eh! Però c'è una cosa che possiamo fare! Posso portare il bambino da me! Lui in teoria adesso non dovrebbe stare qui! Eccolo! Dov'eri? Dov'eri? Eri pronto a organizzare una trappola per il papà, eh? Ma certo che eri pronto! Brutto pezzo di infamotto che non sei altro! Ma adesso papà ti ha preso nelle sue mani! E questo vuol dire che tu non puoi fare... Ah! Puoi farlo lo stesso! Capisco! Va bene! Uno a zero per te, ok? Uno a zero per te! Ma papà può fregarti di nuovo! Perché non sei più solo tu ad avere i poteri magici adesso! Guarda un po' che cosa ti faccio io! Opla! Ah! Pezzo di... Tiene la chiave lui, eh! Tiene la chiave perché non mi vuole far andare avanti! E io pensavo che con i miei poteri l'avrei potuto fregare! E invece non è vero! E riproviamoci! Vediamo un po' chi è più bravo allora! Vieni qua! Dammi la chiave! Pezzo di porcello che non sei altro! Vieni qua! Ti ho detto! Dammi la chiave! Oh bambino! Bambino papà si arrabbia! È così! Vieni qua! Ti ho detto! Pezzo di pezzettino! Stai! Fermati! Ma vuoi fare... Vuoi metterla in questo modo? D'accordo! Vuoi metterla in questo modo? Va bene! Va benissimo! Allora facciamo così! Faccio un altro di questi! Ah! Questo non ce l'ha la chiave! Maledetto! Ne sai una più del diavolo eh! Mi domando come mai! D'accordo! 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 Allora ti frego! È infregabile! Questa è l'ultima notte del gioco! Dove succedono le cose più brutte! Credo che qui qualcosa dovremmo vedere! Prendiamo il biberon per il bambino! Glielo diamo! E vediamo che cosa fa! Tieni piccolo! Adesso ti devo cambiare! Papà ha deciso di usare le maniere buone con te! Perché in fondo sei un bravo bambino! Eh no! Ti ho buttato in terra! Aspetta che ti metto lì! Poi prendiamo un pannolino! Piccolo! Perché... Però papà stava essendo gentile con te! E non ti ho detto che devi guardare la televisione! Poi sei tutto cagato! Non va bene! Papà te la rompe la televisione! Papà può farlo! Perché papà ha i poteri magici adesso! Adesso... Ecco qui! Ah! Che bello! Che bello! Sei tutto pulito adesso! Cos'era che ho sentito sbattere la porta? Ah! Un'altra musica! Basta le canzoni! A papà non piacciono le canzoni! Papà ti dà un'altra volta il biberon! Perché tu hai tanta fame! E adesso hai cagato un'altra volta! Oh! Che bella la vita di papà! È una gioia! Ecco! Ritorna lì! Un altro pannolino pulito! E dai di nuovo a fare questi dispetti a papà! E vabbè papà però ha tanta pazienza! Papà non si spaventa di niente! Ti prende un altro pannolino! E ti cambia un'altra volta! Sta iniziando a nervosire! Ecco qui! Oh! Ancora! Colta bambino! Papà si è arrabbiato adesso! Ha capito che lo stai prendendo in giro! Papà se ne va di casa! Ecco qua la verità! Papà se ne va di casa! E ti lascia lì da solo! Come stai tu? Non mi hai bloccato l'ascensore? Puoi fare quello che vuoi! Tanto papà se ne frega! E va avanti lo stesso! Perché se mi ricordo bene! Noi adesso dovevamo aprire qua sopra con la chiave! E la chiave tecnicamente ce l'abbiamo pure! E infatti noi vedete! Schippiamo un po' tutto! E andiamo avanti così! E qualcuno credo! Che si sia arrabbiato un po'! E infatti vi ricordo! Che qui noi dovevamo ignorare il bambino! E dovevamo andare avanti! Perché se lo prendevamo succedeva il peggio! Quindi noi facciamo esattamente così! Lui cerca di fare di tutto per farsi notare! E io vado anche a vedere che cosa sta facendo! Perché io posso passare attraverso le pareti! Non te lo aspetti eh bambino! E invece fai proprio male! Perché io guarda un po' cosa faccio! Cos'è questa luce? Ho visto la luce lontana! E cos'è? Urca miseria! Oh ma questa è la fine del gioco! La porta della fine del gioco! Forse sai che questo è un altro finale! Che noi non abbiamo nemmeno sbloccato! Corri piccolo coniglio! Non sei il solo! Ce ne saranno altri ancora! Uh! Che cos'era? Ah tra l'altro c'è un altro finale! Marzo 2023! Nuove aree, enigmi, abiti e lore! Ah! Quindi c'è un'altra data! Marzo 2023! Il prossimo aggiornamento! Ah! Vedete! Non sono sicuro di aver mai visto questa porta e quella... Quel breve fotogramma glicciato del bambino! Mi viene il dubbio che... Fatemi sapere! Perché voi sicuramente avrete visto il video precedente di The Baby in Yellow! Prima di quello del Natale! Ne avevamo fatto un altro ovviamente! Fatemi sapere se abbiamo già visto questa schermata! Perché mi viene il dubbio! Per oggi però ci fermiamo! Spero che vi siate divertiti a vedermi navigare dietro le pareti del Baby in Yellow! E prenderlo e combinargli qualche dispetto! Perché qualche dispetto lui se lo meritava! Sì! Te lo meritavi proprio qualche dispettuccio! Ecco qui! Però... Per oggi ci fermiamo! Grazie di aver guardato il video! E Lion Out!